Non lo so, adesso vado via, non sono un avvocato né tantomeno un addetto ai lavori. Il giorno dopo la raffica di multe per il parcheggio in via Nazareanza, Bari, chiusa in parte per il completamento dei lavori dell'asse Nord-Sud e con la careggiata fortemente ridotta, le avvocati non intendono accettare in silenzio il blitz compiuto dalla Polizia Municipale, quindi verbali da 28 euro per il divieto di sosta. Oggi la situazione sembra più regolare, anche se qualche automobilista incurante di ciò che è accaduto ieri ha continuato a parcheggiare sulla stessa carreggiata. Intanto però diversi multati meditano il ricorso. O decidiamo di lavorare o decidiamo di fare le opposizioni ai verbali contravenzionali, ingiusti naturalmente. Lei è stata una di quelle che ha ricevuto la multa ieri? No, spero di non riceverla in futuro perché se no mi arrabbierò moltissimo. Qui effettivamente era un caos incredibile di macchine parcheggiate, quindi anche per le macchine che dovevano entrare e uscire dalla procura era un problema. Diciamo che invece di multare magari potevano essere più chiari con la segnaletica, questo è vero, però bisognava un po' normalizzare la situazione. Tuttavia sono molti gli avvocati che continuano a sostenere che nonostante i divieti esiste un problema di segnaletica che confonde gli automobilisti. Lì ho visto una P di parcheggio, quindi se ci sono gli estremi fanno bene i colleghi a fare opposizione. Però questo magari è da rimproverare, una maggiore chiarezza sarebbe meglio, invece di reprimere, chiarire, segnalare adeguatamente dove è possibile e dove non è possibile parcheggiare. Assurdo perché non ci mettono in condizioni di usufruire di una struttura. Qualche suo collega ha detto che decidiamoci, o pensiamo a cercare il parcheggio o pensiamo a lavorare? Infatti, sono d'accordo con lui. Lei com'è venuto oggi con la macchina? Sì, sono venuto con l'auto, sono riuscito anche a parcheggiarla all'interno del tribunale, ma soltanto perché avevo un'udienza fissata dopo le ore 11, altrimenti sarebbe stato un problema raggiungere il tribunale.